Allora ragazzi tavola 6, anche questa tavola la dividiamo in 4 parti uguali e svolgiamo 4 esercizi. Quello che vedete è il primo esercizio che dovrete disegnare nel riquadro in alto a sinistra. L'esercizio consiste in questo, dato un segmento lungo 10,5 cm di dividerlo in 9 parti uguali. Allora vedete io disegno nella parte bassa un segmento lungo 10,5 cm. Adesso qual è il problema? Che 10,5 è una misura che diviso 9 ha un numero diciamo così non esatto e se lo vado a fare appunto con la squadretta sicuramente riportando le misure dei vari segmenti l'ultimo segmento a causa degli arrotontamenti verrà non preciso. Allora troviamo un metodo che ci consente di poterlo fare in modo veloce ed esatto. Allora come prima cosa noi tracciamo un segmento lungo 9 cm quindi esattamente divisibile per 9 inclinato in una misura a caso partendo dal punto estremo. A questo punto che cosa facciamo? Cerchiamo con il compasso di riportare un centimetro alla volta quindi troviamo il punto 1 con l'apertura di un centimetro. Facendo centro sul punto 1 sempre con il compasso aperto ad un centimetro troviamo il punto 2, troviamo il punto 3, il punto 4, il punto 5, il punto 6, il punto 7, il punto 8 e il punto 9. Vedete in questo modo il segmento che è lungo 9 cm e aprendo il compasso con l'apertura di un centimetro lo riusciamo a dividere agevolmente in 9 parti. Quindi ripeto faremo centro nel punto iniziale con l'apertura di un centimetro, nel punto trovato 1 con l'apertura di un centimetro lo troviamo 2, facciamo centro in 2, l'apertura di un centimetro lo troviamo in 3 e così via fino al punto 8, fino al punto 9. A questo punto che cosa facciamo? Uniamo il punto 9 con l'estremo del nostro segmento e quindi possiamo già sull'estremo del nostro segmento mettere la lettera A. A questo punto che cosa facciamo? Con la squadretta facciamo una parallela al segmento 9A, questo segmento qua, passante per 8, quindi facciamo proprio una parallela e troveremo un altro punto che è il punto B. Andando avanti troveremo il punto C, parallela, sempre alla prima passando da 7, troveremo il punto D passando da 6, il punto E passando da 5, il punto F, il punto G, il punto H e il punto I. In questo modo se io vado a misurare tutti questi segmenti, sono tutti segmenti che hanno una misura, diciamo così, non rilevabile in modo preciso dalla squadretta, ma che saranno tutti quanti uguali e ci permettono di aver diviso questo segmento che è lungo 10,5 in 9 parti uguali. Quindi ricapitolando si disegna il primo segmento da 10,5 cm orizzontale, si fa un segmento inclinato di un'inclinazione e piacere però che sia di 9 cm esatti in modo che lo possiamo dividere in parti uguali. In realtà queste 9 parti le avremmo pure potute fare tranquillamente con la squadretta, non è che è per forza obbligatorio farlo con il compasso, facciamo con la squadretta perché in questo caso saremo precisi. Poi dal punto 9 al punto A tracciamo una linea e facciamo tutte le parallele passanti per i punti 8 a 7 fino a 1 in modo che possiamo così dividerlo in 9 parti uguali. E questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio che non vi spiego è anaro quel precedente. Date un segmento lungo 11 cm, dividerlo in 12 parti uguali. Quindi farete esattamente la stessa cosa. Adesso non lo rispiego, però dal punto estremo di sinistra, cioè questo punto qui, traccerete un segmento inclinato lungo 12 cm, lo dividrete in 12 parti e farete tutte quante le parallele e a individuare i vari punti. E questo è il secondo esercizio. Il terzo esercizio dice, data una circonferenza di raggio 4 cm, disegnare il quadrato iscritto. Allora, come funziona? Funziona in questo modo. Tracciamo per prima cosa una circonferenza con il raggio di 4 cm. Quindi apertura 4, più o meno dal centro tracciamo la circonferenza. Dopodiché disegniamo una retta, un segmento perpendicolare, più o meno perpendicolare rispetto alla base, diciamo così, alla linea di base del nostro riquadro e troviamo i punti B e D. Di fatto questo è un diametro, che è un diametro che possiamo fare senza problemi, un diametro qualsiasi. Adesso io l'ho fatto perfettivamente perpendicolare, dicevo, alla squadratura, però ecco, vedete un attimino voi. A questo punto che cosa fate? Con un'apertura a piacere, facendo centro in B, disegniamo due archi, uno nella parte sinistra e uno nella parte destra. Con la stessa apertura, ok, facciamo altri due archi partendo da D, in questo caso, quindi prima facendo centro in B, due archi, stessa apertura facendo centro in B, altri due archi. In questo modo abbiamo trovato il punto 1 e il punto 2. Eccoli qua. Se noi uniamo il punto 1 col punto 2, possiamo disegnare un altro diametro, in questo caso mettiamo le lettere AC e questo diametro sarà esattamente perpendicolare all'altro diametro di B. Grazie alla costruzione che abbiamo fatto a questo punto non ci resta che collegare i vari punti fra di loro e abbiamo disegnato il quadrato iscritto a questa circonferenza di raggio 4. Quindi in questo caso il lato del nostro quadrato, di fatto non è noto e non ci interessa nemmeno. Quello che ci interessa è il raggio della circonferenza iscritta che è di 4 cm. Vediamo l'ultimo esercizio, dice dato un segmento di 8 cm disegnare un quadrato. Allora questo esercizio riparte ancora una volta, come abbiamo già fatto nella tavola precedente, dalla costruzione che ci permette di fare la perpendicolare all'estremo di un punto. Mi spiego meglio. Eccola qua. Vedete, noi possiamo tranquillamente nel punto B, con la costruzione ormai nota che abbiamo già fatto ben due volte, costruire una perpendicolare che passa per B. A questo punto che cosa facciamo? Apriamo il compasso però di 8 cm e troviamo il punto C. Quindi la perpendicolare avrà, diciamo così, questa lunghezza di 8 cm che è esattamente la stessa lunghezza della base. A questo punto che cosa facciamo? Sempre con il compasso, diciamo così, aperto di 8 cm, facciamo centro in A e tracciamo questo archetto che vedete qui. Facendo centro in C, sempre l'apertura di 8 cm, quest'altro archetto e troveremo questo punto qui, che è il punto D. A questo punto, eccolo qua, qui ho tolto le misure, il punto D quindi, ecco, esattamente questo, quindi facendo centro in A con apertura 8 cm, questo arco facendo centro in C, stessa apertura, quest'altro arco, il punto in detenzione, il punto D. A questo punto uniamo C con D e D con A e abbiamo costruito un quadrato di 8 cm. Ecco, questa qui che vedete è la tavola finale, così come deve essere svolta, che è la tavola 6. Quindi i primi due esercizi hanno, diciamo così, lo stesso metodo di esecuzione di costruzione e gli altri due sfruttano delle costruzioni che abbiamo già fatto, cioè quella della costruzione di perpendicolari. Ecco, quindi questa è la tavola 6 che dovete fare, consegnare.